Grazie a tutti Buongiorno ragazzi, bentornati dalle vacanze Quest'anno c'è una novità, cioè la nostra nuova compagna Alessandra Devo indicarlo, zio Ah, c'è ragione Vabbè, allora dico solo c'è una novità, per esempio Quest'anno c'è una novità, cioè la nostra nuova compagna Alessandra Dai, ma non è più Vai Avete visto com'è passata? Non si vergogna Io se fosse lei, sì F*** ma non così veloce Un attimo di pausa Madonna, è a punto Come è con Gianni? Devi fare anche le facce Ma devo guardare tutte e due o guardare solo lei? Perché avete visto? Hai visto com'è vestita? Miglia Oh, andava bene Solo che dovete farlo un po' più lentamente Eh, è più sciolto Vai Avete visto com'è vestita? Non si vergogna Io se fossi lei, sì Vai, silenzio Avete visto com'è vestita? Aspetta Vai Quando vuoi Avete visto com'è vestita? Non si vergogna Io se fossi lei, sì Mi neve Ale, guardo la Denise La Denise, la Denise Muoviti Cosa muoviti? Cioè Dove devo guardare? Vai là Ale Guarda te, io mi nascondo Dai Dai Scusa, questo posto è occupato Allora come potete Silenzio ragazzi, silenzio Come potete vedere a pagina 479 Secondo la tradizione celtica La filastrocca degli agrumi Procede, secondo queste Scusa, queste parole Fissi Scusa 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 Che giorno è? Scusa Scusa Allora prima faccio i disegni Guarda lì No, non scrivo niente Faccio Scusa 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 Dai Non ridere subito dopo Aspetta Aspetta Scusa 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 Dai muoviti 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 Non ce la fa Ce la te lo fa Non so Non so Non so Non è una lingua Ma Vado Scusa Vado Ma dai Marta Magari era pure Simpatica No Una ragazza come lei Non Ne Scusa Scusa Scusa